la prima gara del programma erano i 200 stile libero dove io ho vinto la mia prima medaglia di bronzo facciamola vedere qual è e c'è scritto e mi ricordo che in questa gara qua io me la stavo letteralmente facendo sotto in finale cioè batteria ancora ancora ho detto ma sì quando ci hanno chiamato per la finale si faceva sentire tutta l'emozione in prechiamata camera di chiamata 20 minuti tra l'altro ti chiamano prima poi è uscito questo bordo vasca in me e se tu dici oddio poi mi sono detto va bene quante volte hai fatto quattro vasca dai ce la puoi fare e io dico sempre che sono contenta che la prima gara fosse il 200 perché almeno ho fatto la prima vasca in apnea cioè respiravo ma non respiravo io mi ricordo che non ho capito niente il primo 50 metri poi mi sono detta ascoltare il 650 e quindi niente da lì me la sono goduta un po di più la gara